in quanto a piste ciclabili e isole pedonali. E la lotta alla contraffazione è uno degli obiettivi principali dell'azione di Confcommercio di Roma che ieri sera ha festeggiato il suo settantesimo compleanno con una serie di eventi tra cui uno spettacolo inchiesta per denunciare la piaga dei falsi. Sentiamo Daniela Bruni. La Confcommercio Roma ha compiuto 70 anni. L'anniversario sarà un'occasione importante per richiamare l'attenzione dei cittadini, degli associati e del mondo imprenditoriale sull'impegno di questa organizzazione per lo sviluppo e il progresso della città e per riaffermare una cultura dell'impresa basata sulla legge e le buone pratiche. Per questa ricorrenza l'associazione di categoria ha organizzato un programma di eventi di forte impatto come lo spettacolo teatrale Tutto quello che sto per dirvi è falso, messo in scena dalla compagnia La Piccionaia che pone l'accento sul danno non solo economico ma anche sociale della contraffazione. Abbiamo della rava falsa addosso. Lo spettacolo articolato in forma di inchiesta ricostruisce il business dei falsi, la lunga filiera controllata dalle mafie che va dalla produzione allo stoccaggio per arrivare fino alla distribuzione. Un business a 360 gradi che prospera in molti settori del commercio, dall'agroalimentare alla moda alla farmaceutica alla meccanica, stimato intorno ai 6,5 miliardi di euro, che sottrae ogni anno 110 mila posti di lavoro regolari, costringendo 115 milioni di bambini a lavorare invece di andare a scuola. Il tempo libero lo possiamo aiutare un po'? Ma...